Bottino di medaglie eccellente per l'amatori Serafini ai campionati regionali allievi e cadetti svoltisi a Sulmona sabato e domenica scorsi. Sono stati quattro i titoli abruzzesi conquistati, otto le medaglie d'argento e una quella di bronzo. I nuovi campioni regionali sulmonesi sono Vittoria Casaccia nel salto in alto, Ludovica Di Cesare nei 200 metri, Alessia Mori nel salto con l'asta e Nino Di Censo nel lancio del peso. Sono saliti invece sul secondo gradino del podio Remo Palazzone nei 110 metri ostacoli, Daniele Silvestri nei 100 metri ostacoli e nei 2000 metri, Sergio Colan nei 1000 metri, Lucia Santucci negli 80 metri ostacoli, Nino Di Censo nel lancio del martello, Milena Micale nel salto in alto e Ludovica Di Cesare nei 100 metri piani. Terzo posto per Gesù Soria nei 300 metri ostacoli. Le due giornate di gara sulla pista del complesso sportivo Nicola Serafini hanno riscosso notevole successo per la presenza di atleti provenienti da ogni parte dell'Abruzzo. Tra questi vanno segnalati alcuni che hanno già indossato la maglia azzurra ai campionati mondiali allievi, come la pesista Ludovica Montanaro. Molto seguita la gara dei 5 chilometri di marcia con la vittoria della chietina Angela Di Fabio, che per la sua età è stata già protagonista ai recenti assoluti di Pescara. I campionati regionali di Sulmona hanno consentito ai tecnici di individuare gli atleti che andranno a comporre la formazione abruzzese che sarà impegnata di Sernia al Trofeo Nazionale Musacchio, sabato 22 settembre e il 6 e 7 ottobre a Rieti ai campionati italiani cadetti. L'evento dello scorso fine settimana ha concluso le manifestazioni di atletica leggera nel capologo Peligno che quest'anno ha avuto il merito di ospitare a giugno la finale bronzo.